se mettete voi il colore perché è rosso per il demo sono due azar per il muore boh ma non gli ha mai dato per noi a questo cioè l'oddio all'inizio non gli dava una cosa più recente gli ultimi mesi ogni tanto però non sempre schermo ah ecco cosa che era la musica di sottofondo che cazzo è data? mi è passata di fianco? mi sa di sì si è già curato l'altro comunque ci ho provato no ho sbetto la mira ok magari drop mi la patata già che ci sei no? ok non preco a main prima se riesco da un hit che spamma in basso twitch brutto timing che ha hit poi andiamo a calciare il gen chi cazzo è che ha urlato? parabarabarabarabarabarabarabarabarabarabara ciao peppe buonasera prenditi questo hit Posso ripetere che prendersi un hit Per un altro serve con off the record Dovrebbe essere completamente illegale Lasciamogli usare DS Così è contento Oh wow Lo DS è off the record Wow non me l'aspettavo proprio Come minimo anche The Dard Dov'è tarlo là? No se mi partano un po' di gioco Ma quanto corre questo raga? Minchia Buon andato sotto pallet ma va bene Stavo cercando di betargli il The Dard Non essere qui Oh ho pagato Che merda di pallet questo per me? È stralungo Bravo comunque a luppare questo Ho già 3 gen Sì mi partono tutti ormai Tornato a Shaq Non era neanche inceso Dard Chiaro Se ho sentato qualcuno vicino per il save Sarà stato triste Dov'è tarla però volevo portarla nell'angolino Vicino ai gen Questa mezza specie di trigen Nooo Dai mi ha mettato il muro Ok devo giocare una sola trigen adesso Slugino Quello è il più lontano Paura che lo stiano facendo ma Non ci posso fare niente Oh no sono andato fra il save Eh avendo off the record questo mostra grid Non off the record Era solo iron wheel Cazzo Ecco per questo iron wheel ha broken E non dovrebbe esister C'è qualcun altro qua? L'avevano ottenuto al 75% Era così bello Era un wheel al 75% Non l'hanno rimasto E l'hanno rimasto al 100% Stanno già andando per la porta Suppongo Già aperta la porta Non è che stanno già andando per la porta Vabbè GG Sarà giocata bene la Mi lasci fanno i gridi Se ne lascio risettare posso provare a prendermi una kill in più È broken perché non senti dove sta nei loop Perché non senti dove sta nei loop Cosa che è fondamentale di solito Forse dovevo cacciarli perché non so dove è andato questo cazzo sdraiato Cosa torna stronzato Vabbò Dove minchia ha strisciato raga? Ah eccolo qua Portiamo lontano dalle porte Oddio lontano dalla porta Sigur Snake Andiamolo qua Nell'angolino Almeno è più facile difendere Ma qui non è questione di team È questo che era molto forte Grazie a tutti Grazie a tutti C'è quella pronta Per fare flashlight save Sono sicuro al 100% La sable Dai per questo che sto controllando bene Nei dintorni No forse si sta resettando ancora Arrivo in basement Non mi ricordo se c'era il pallet Non mi ricordo se c'era il pallet Con save the best E hanno trollato Grazie alla kill extra Beh diciamo che DS of the record ed hard È la classica meta broken Che non è che ti richiede Chissà quale abilità onestamente Guarda per il 4 Non è stato conveniente Mi hanno dato una kill extra ancora Sto dicendo perché questo non moriva Vabbè 3k Prendi e porta a casa Snake Anche se ho giocato male L'hanno giocato peggio Però fin Potevano lasciarmi una kill E hanno deciso di suicidarsi Per prenderne di più I min Non è stato Non credo Però va bene Non credo Non credo